Dua Lipa, we are good, we are good Dua Lipa, alle 8 e 34 minuti, Cristal Radio, Good Morning Milano, ben ritrovati, bentornati dopo la piccola pausa pubblicitaria qui con noi, ultima parte di trasmissione e la facciamo con un ospite che è sempre in giro da quanto credo, perché insomma vive su un autobus nella mia immagine, nel mio immaginario vive su un autobus, io lo chiedo se è proprio così comunque. Diamo il benvenuto ad Alessio Ferrara, buongiorno di Bass Theatre, buongiorno Alessio. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti voi. Nella mia testa tu vivi su un autobus, forse un po' esagerato così, però non lo so. Vivere su un autobus no, però gran parte dell'anno siamo in giro, sono in giro con la compagnia, davvero su un autobus ed è quanto emozionante sicuramente. Perché voi arrivate da Napoli ma praticamente avete bazzicato ogni città europea in questi anni perché su di un autobus fate teatro, giusto? Esattamente, esattamente, noi l'associazione di promozione sociale Bass Theatre è un'associazione che promuove, organizza festival, rassegne ma anche proprio spettacoli, produzioni spettacoli di circo, teatro anche musicali, quindi di arti sceniche performative e lo fa in questa maniera abbastanza insolita attraverso un mezzo speciale, ovvero un autobus trasformato in teatro, cosiddetti teatri mobili, un teatro mobile, tutti gli effetti. Ecco, ne stiamo parlando perché siete a Milano, in questo momento, giusto? Sì, esattamente, siamo a Milano, siamo a Milano, questa sera andremo in scena a Piazza Minniti, Isola, alle ore 20 con il nostro spettacolo Gran Cabaret, e quindi è un put purri di arti, appunto, dal burlesque al circo, alle acrobazie alla musica cantata. E come funziona per partecipare alle vostre performance? Allora, noi oggi siamo qui grazie al Gene Hendrix che sta promuovendo un suo ultimo prodotto e ci ha fortemente voluto proprio con il nostro cabaret. E infatti, grazie anche a loro, che noi siamo qua a Milano per fare questo spettacolo che sarà totalmente gratuito, quindi basta arrivare in piazza, anticiparsi un po' per essere vicini allo spettacolo. Fare qualcosa di gratis a Milano è una rivoluzione, non so se lo sai, visto che arrivate da altre città, magari non siete accorti, Milano è stranamente qualcosa di gratis. Dov'è la fregatura, di solito si chiede, infatti. E invece no, non c'è fregatura, anzi, c'è davvero una bellissima iniziativa che è quella che voi state portando in giro mai da un po' di anni. Come nasce l'idea del Bass Theatre? Guarda, nasce dall'incontro con le altre mie due soci, Laria Cicero e Roberta Ferraro, che prima di tutto noi siamo amici dall'epoca adolescenziale, si può dire, siamo cresciuti insieme con l'idea di fare qualcosa artisticamente, sicuramente con Ilaria, che è un'attrice, una performer, mentre Roberta è proprio un'organizzatrice, poi è diventata anche un'organizzatrice teatrale. Ed è nata perché partivamo da ragazzi con la nostra arte di strada e poi l'abbiamo costruita, diciamo, creando su una compagnia. Da lì abbiamo sentito la necessità, poi con l'incontro con questo autobus, che è stato il nostro amore, se in voi è nato, poi appunto l'idea di trasportare la nostra arte attraverso un teatro mobile. Dove arriva questo autobus, Alessio? Dove arriva questo autobus? Questo autobus è un autobus che la compagnia delle gru, il teatro delle gru di Matera, addirittura, riuscì ad acquistare e a trasformare totalmente questo autobus, che è un autobus gran turismo, quindi immaginati 13 metri per 4, un bel colosso, di dubbiviano praticamente, lo sbentrò e l'ha ricostruito, riallestito, ovviamente proprio per le necessità teatrali. Poi la compagnia non ne aveva tantissima fortuna, però l'abbiamo avuta noi che abbiamo superato la concorrenza francese e tedesca pur di avere questo autobus. E' da lì, dal 2015, che siamo in giro tramite festival, rassegni che organizziamo anche noi, oppure ovviamente siamo ospiti di diversi programmi. Come in questo caso, appunto, questa sera ricordiamo, in Piazza Minniti, dalle ore 20, nel cuore dell'isola, nel cuore del quartiere isola sarete lì a raccontare le vostre storie, a farle, a metterle in scena. E appunto, diciamo, lo spettacolo gratuito, anche grazie appunto al contributo del Gene Hendricks. Quindi, insomma, è una bella festa per tutti. Ma poi questo pullman, cioè, prendetelo, spostate da un'altra parte, e fate lo spettacolo da un'altra parte. Funziona così, no? Esatto, questo è praticamente anche la base, sì, soprattutto quello che noi vogliamo arrivare, ovvero cercare di portare il teatro, le arti sceniche performative, in anche luoghi dove magari sono sprosbisti di teatro, quindi non solo grandi città e capitali, ma anche in zone dove magari non ci sono teatro, oppure in aree archeologiche, oppure all'interno appunto di festival, in borghi, voglio dire, di tutta Italia, e anche l'Europa. Come l'anno scorso abbiamo fatto un bellissimo tour tra la Polonia, la Germania e la Francia, ed è stato un bello scambio anche con l'Europa, di scambiarci un po' quelle che sono, sì, le nostre arti, soprattutto italiane. Dopo Milano dove andrete? Lo sai già? Avete già delle date? Dopo Milano è lo stesso evento, praticamente lo faremo proprio a casa nostra, a Napoli, a Piazza del Gesù, e sarà un bel ritorno anche per noi, nella nostra città, perché ti sembra strano, ma noi praticamente siamo di Napoli, viviamo anche a Napoli, ma il bus gira, quindi essere a Napoli anche per noi è davvero molto strano. Da quant'è che non tornate a Napoli? Appunto immagino, insomma, guarda, Napoli Piazza del Gesù è stata la prima data che abbiamo fatto nel 2015, prendete nove anni. Poi ci ritorniamo adesso che sono contento perché l'anno prossimo faremo appunto dieci anni ed è un bel cicchio che quasi si chiude. Ebbè, immagino, immagino. E quindi appunto, avete già anche una turniera europea per caso in giro quest'anno? adesso ci concentriamo sull'Italia. Quest'anno saremo in Italia, quest'anno saremo in Italia, saremo in Italia, gireremo un po' per sud e centro Italia e poi riprenderemo quest'autunno con altri diversi progetti europei perché ovviamente l'autobus e l'associazione poi ecco, al di là anche degli spettacoli promuove anche delle rassegne e dei festival sempre con il teatro mobile anche attraverso i canali con l'Unione Europea. Bene, 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 bene. E allora tanta, tanta merda in questo caso, giusto? Non bisogna dire altro. Grazie, grazie mille, grazie Fabio. Ecco, e ricordaci appunto l'appuntamento di questa sera così che nessuno di noi possa mancare. Ore 20, Isola, Piazza Minniti e Gran Cabaret del Bass Theatre. Andateci, mi raccomando, è l'unico autobus su cui potete salire senza biglietto e nessuno vi dice niente. Quindi insomma, davvero potete fare. Non ci sono i controllori a chiedere il biglietto, quindi fate tranquillamente quello che volete, mettetevi davanti e godetevi lo spettacolo appunto del Bass Theatre. Grazie mille Alessio, allora ci si vede. Di solito in questi casi dico ci si vede a teatro, con te diciamo ci si vede all'Ottogrill, va bene, facciamo così, ci vediamo più strada. Ci si vede in piazza, ciao. Ci si vede in piazza, ciao Alessio, grazie mille ancora ad Alessio Ferrara, Bass Theatre, questa sera appunto alle ore 20 in Piazza Minniti, nel cuore, nel cuore dell'isola qui a Milano. Il Bass Theatre ha fatto tappa.